Se è vero che la linea ferroviaria Campobasso-Termoli, riaperta dopo anni lo scorso 9 agosto, fatica ad entrare a regime e già l'orario ordinario non è molto competitivo per l'intera tratta, è utile per i paesi però dell'Interland, ma è altrettanto vero che occorre anche preservarla dalle scorribande di chi punta a mettere le mani sul loro rosso i preziosi cavi di rame, come purtroppo è avvenuto la notte scorsa, quando sicuramente una banda di malviventi si è presentata in agro di Guglionesi disarmando ben 32 bobine di cavi da 200 metri e portando via quasi 6,5 km di metallo che al mercato nero frutterebbe ben oltre 50.000 euro, soldi che ora si dovranno reperire nelle casse degli enti proprietari dell'infrastruttura costretti anche a riparare i danni provocati dal gruppo di aspiranti ladri di metalli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato rilievi e sopralluoghi.